Musica Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti bentornati in un nuovissimo video Oggi siamo su League of Legends Siamo qui sulla modalità della URF Dove io e i nostri bemmichicini abbiamo deciso di fare qualche bella partita e registrarla Niente la modalità è finita Sono arrivato a fare tutto qua Abbiamo fatto qualche partita Abbiamo portato tutto qua Ha fatto un piccolo montaggio con qualche champion Alcuni veramente devastanti E niente lasciate il pollice su se vi piace questa categoria di video E niente dopo questa piccola premessa vi lascio al video Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.